Toscani ha i primi posti in Italia per aspettativa di vita, anziani in aumento, natalità in calo. Sono raddoppiati gli stranieri negli ultimi dieci anni, diminuiscono i fumatori ma si beve di più ed in lieve crescita il consumo di sostanze. Le vaccinazioni sono in calo, le malattie croniche nella media italiana e positivi gli esiti dell'assistenza. E' questa la fotografia dei Toscani scattata dall'Agenzia Regionale di Sanità anno 2015. I Toscani vivono sempre più a lungo, sono tra i più longevi del mondo, dice Francesco Cipriani, direttore dell'Arts. Insieme alla continua riduzione del numero dei figli per donna, si creano però le condizioni per un forte invecchiamento della regione, con una crescente domanda di servizi sanitari. La buona notizia è che negli anni di vita guadagnati sono per la gran parte in buona salute e in assenza di disabilità. Merito in parte dei comportamenti di vita sani e in parte anche di cure efficaci. Interventi di prevenzione di dimostrata efficacia e un servizio sanitario, dice sempre il direttore dell'Arts, che interviene per tempo sulle cronicità. Basta pensare che dopo Liguria e Friuli Venezia Giulia, la Toscana è la regione più anziana d'Italia. Quasi un milione di persone hanno più di 64 anni e quasi 500.000 meno di 15 con un conseguente peso nel bilancio sanitario notevole.